buongiorno a tutti oggi voglio farvi vedere questa pianta di carciofi che è cresciuta sopra un punto luce ha già prodotto sette carciofi sette sono ancora attaccate la pianta e sicuramente ne produrrà anche altri ma cos'è un punto luce è un nodo artman che non si è degradato perché tutti i nodi artman prima erano punti luce a causa del comportamento dell'uomo la rete artman si è ha perso la sua potenza lasciando comunque in alcuni punti queste uscite di energia molto potenti che si chiamano appunto punti luce per adesso è tutto e ci aggiorniamo al prossimo video